La cantante Anna Tatangelo dopo la fine della sua relazione col modello 27enne Mattia Narducci ha ritrovato l'amore. Ma chi è il suo nuovo compagno? Si tratterebbe dell'allenatore di calcio della Roma City FC Giacomo Buttaroni. Scopriamo insieme cosa sappiamo della loro relazione. Anna Tatangelo innamorata. Chi è il suo nuovo fidanzato? Anna Tatangelo ha un nuovo amore. Dopo aver rotto con l'ex Mattia Narducci, che risale allo scorso giugno, la cantante è pronta a rimettersi in gioco. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Diva e Donna che ha paparazzato la cantante e coach di Io Canto Generation, insieme al giovane allenatore di calcio della Roma City FC Giacomo Buttaroni. Nel servizio realizzato dal settimanale sono presenti le loro prime foto di coppia insieme. Lo sportivo è stato ripreso insieme alla sua presunta nuova fidanzata mentre la aiuta a portare le sue valigie sotto casa a Roma. Ma cosa sappiamo di Giacomo Buttaroni? L'allenatore conduce una vita lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Al momento non ci sono molte informazioni sul suo conto. Ciò che si può scoprire dal suo profilo Instagram è che è romano, ha fondato il club sportivo off-season Roma EU e allena la Roma City FC. Al momento ancora non si hanno informazioni certe in merito a quando si è iniziata la sua relazione con la cantante. Dopo la tormentata relazione con Livio Cori, la Tatangelo era riuscita a ritrovare la felicità al fianco del modello 27enne Mattia Narducci, più giovane di lei di ben 10 anni. Dopo circa un anno la loro relazione è arrivata al capolinea. I due non hanno mai confermato la loro rottura ma quando ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, Mantra, ha ammesso di essere rinata. Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l'altro. Mantra è questo, è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi. Noi non possiamo far altro che augurare che questa relazione porti ad Anna tutta la felicità e la sicurezza di cui ha bisogno.